Attendendo la parousia con un po' di saviduria. Nella cornice della solennità di tutti i Santi, con il ricordo dei difunti nel nostro cuore, la liturgia di queste ultime domeniche ci accompagna a riflettere sui temi della vicenda umana e sulla storia dell'uomo. È l'Apostolo Paolo che ci aiuta a introdurci nella riflessione sul tema della morte, rivolgendosi alla comunità di Tessalonica, una comunità che aveva vissuto il morire dei suoi primi componenti e che vive nel dolore e nella preoccupazione. Come potranno questi condividere con il Cristo che ritorna nella storia? Nella sua missione Paolo interroga i suoi, li invita a vivere nell'attesa del Signore, riconoscendo che il Signore è vicino. Come potranno vivere questi con il Signore? Non deve esserci tristezza nel pensiero del cristiano. La tristezza non si addice ai credenti. Il cristiano, infatti, vive nella speranza. Vive in una speranza che va oltre la morte, oltre i limiti della vita terrena, perché ogni cristiano è certo che il Signore custodisce un posto per ciascuno di noi, per quanti il Signore ama. E dunque è una festa quella che attende il credente. È un banchetto, come l'immagine che Gesù utilizza per avvicinare i discepoli alla dimensione eterna della propria vita. Il Regno dei Cieli è simile a... La parabola cosiddetta delle Dieci Vergini si iscrive proprio in questo tema, in quello che è conosciuto come il discorso escatologico, l'ultimo grande discorso che troviamo nell'Evangelo di Matteo. Se il contesto in cui Matteo scrive è molto simile a quello che Paolo ha tematizzato nei confronti della comunità di Tessalonica, sicuramente l'immagine che utilizza quella del banchetto è un banchetto che riguarda ciascuno di noi. Il Regno dei Cieli, dunque, non deve essere paragonato alle Cinque Vergini, quanto piuttosto a una festa, a una festa di nozze, a una festa unica, perché è unico l'incontro che questa festa vuole rappresentare. Non si tratta dunque del paragone nei confronti di alcune donne buone, alcune donne meno buone. Non si tratta di una questione morale, non capiremmo se no la questione del rifiuto, del donare l'olio. È piuttosto un invito alla comunità cristiana di vivere il tempo presente non a Natan d'Angodò, quanto piuttosto con una certezza ispirata dalla virtù divina della speranza, del ritorno. Un'attesa che è chiamata alla sapienza, una sapienza che non è altro che uno dei nomi di Dio. Nella sapienza islamica Dio viene chiamato come il sapiente. La sapienza islamica ci invita a rincorrere la sapienza fino ai confini del mondo. Noi che siamo cristiani riconosciamo in Gesù l'unica sapienza per sempre con noi.